... Martedì 7 luglio, buongiorno, sono le 7 del mattino, è il momento della rassegna stampa, della lettura dei giornali. Allora, naturalmente molto spazio alla scomparsa di Ennio Morricone, un maestro, la notizia della sua morte ha fatto immediatamente il giro del mondo. Vedremo, ci sono tante testimonianze, tanti racconti di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare insieme a lui, naturalmente. Vedremo, c'è Sofia Loren che lo ricorda, lo ricorda Carlo Verdone, Lina Wertmuller, insomma, sono molte le persone che hanno voluto testimoniarlo. Tra l'altro, ieri si sono già celebrati in forma strettamente privata per suo espresso desiderio i funerali. ha fatto sapere, dice, non voglio disturbare. Questo per quanto riguarda Ennio Morricone. Poi, invece, per quanto riguarda le notizie, c'è stata una seduta a fiume, per così dire, del Consiglio dei Ministri. Ieri è durata tutta la notte e ha dato il via libera al decreto semplificazioni. Questo per quanto riguarda l'economia e la politica. Ma, insomma, ci sono anche molti altri temi che andremo a scoprire tra poco con la lettura dei giornali. Partiamo, come sempre, dalla prima pagina del Corriere della Sera. Lo vedete, la fotonotizia è dedicata, naturalmente, giustamente al maestro Ennio Morricone. Sono morto, non vi voglio disturbare. Questa è la motivazione per la quale, appunto, si sono celebrati già ieri pomeriggio i suoi funerali. E poi, accanto alle altre notizie, appalti e regole, l'ultima battaglia nel governo ha approvato il piano delle riforme per l'Unione Europea. A proposito di Unione Europea, oggi il Premier Conte volerà in Portogallo, dove incontrerà il Premier Costa. Domani sarà in Spagna, incontrerà il Premier Sanchez. Con loro discuterà proprio delle misure dell'Unione Europea in tema di economia e di sostegno ai paesi che sono stati colpiti duramente dalla pandemia. E allora, leggiamo però che cosa è scritto qui nel richiamo, proprio per avere una informazione in più. Dal codice degli appalti all'abuso d'ufficio, tanti importanti temi all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, a partire da quel decreto semplificazioni che ancora agita la maggioranza. Tocca al Premier Conte cercare di trovare la quadra tra le varie posizioni, via libera al piano delle riforme per l'Unione Europea. Così la sintesi. E poi, il test antivirus nelle scuole. Parliamo di coronavirus, di Covid-19. Il Comitato Scientifico ha chiesto al Governo appunto di sottoporre i test sia erologici, sia i docenti che il personale scolastico, proprio prima dell'avvio delle scuole, dell'anno scolastico in settembre, che dovrà quindi avvenire in sicurezza. Vedete, test antivirus nelle scuole per docenti e impiegati. Torniamo un attimo nella parte alta della prima pagina del Corriere della Sera, perché c'è l'editoriale di Angelo Panebianco, dedicato a una finestra sugli Stati Uniti, sulla politica degli Stati Uniti. Lo sapete, in novembre si voterà per le presidenziali. Allora, che cosa scrive Angelo Panebianco? Andiamo a leggere insieme. Facciamo l'ipotesi che Trump perda le prossime elezioni presidenziali e che alla Casa Bianca si insedi un'amministrazione democratica guidata da Joseph Biden. Non è sicuro, però è possibile. In tal caso, riapparirebbe il sereno nei rapporti tra Europa e Stati Uniti? Si domanda, le due sponde dell'Atlantico tornerebbero ad avvicinarsi? In parte, sicuramente sì. Trump ha antagonizzato a tal punto i governi e le opinioni pubbliche del vecchio continente che una sua uscita di scena avrebbe l'effetto immediato di riconciliare molti europei con l'America, ma in parte forse no. Questo è l'inizio del commento di Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, parlando di Stati Uniti, appunto. E poi la Repubblica, la fotonotizia dedicata al maestro Morricone, lo vedete, addio maestro. E accanto l'altra notizia importante, principale, che troviamo sulle prime pagine, la riunione del Consiglio dei Ministri, il via libera al decreto sblocca Paese, come titolo a proprio Repubblica. Vedete, il decreto sblocca Paese, CDM, Consiglio dei Ministri, nella notte, sul decreto legge semplificazione, ripartono i cantieri. Però anche l'altra notizia, due milioni di lavoratori in cassa, integrazione ancora senza assegno. E poi sotto due commenti, leggiamo insieme proprio i titoli, Conte, la dote da offrire all'Unione Europea, e poi Macron, Macron, lo sapete, c'è stato un rimpasto di governo in Francia proprio l'altro giorno, molto rapido, non c'è più il Premier Fione. Allora, Macron è in cerca di un'anima verde. Questo è il titolo della Repubblica. La stampa, naturalmente, non poteva che aprire, giustamente, sulla scomparsa di Ennio Morricone. Ciao, maestro. E poi vedete, nella sintesi, il ritratto, il mondo ai suoi piedi, da Trassevere a Hollywood, Franco Nero, un innovatore con il senso dell'umorismo, Sofia Loren, per stargli vicina continuavo ad ascoltare i suoi brani. E poi Carlo Verdone, un'anima candida, ma potente. E poi Nicola Piovani, sotto, ispirazione etica e olio di gomito, i segreti di un artigiano geniale. E accanto, Jeremy Irons, la sua musica, un miracolo in questo sporco vecchio mondo. Così proprio per ricordare la figura di Ennio Morricone. Vediamo il messaggero, anche in questo caso la fotonotizia, l'autonecrologio di Morricone, sono morto, non voglio disturbare. La nostra colonna sonora. E poi ancora abbiamo il decreto semplificazioni, qui di taglio centrale. Il via libera, che è arrivato nella notte dal Consiglio dei Ministri, che si è riunito lungamente. Ultimi scontri su appalti e lista delle grandi opere. E poi un aggiornamento per quanto riguarda la situazione del virus nel Lazio. Positivi 14 bengalesi, sono stati in realtà 16 i casi nelle ultime 24 ore registrate nel Lazio. Di questi 13, anzi 14, scrive il messaggero, sono bengalesi. E allora mi fermo qui con la lettura delle prime pagine. Diamo la linea d'energia per qualche istante e ci vediamo subito dopo. Vi aspettiamo. 11 minuti dopo le 7, ben ritrovati. Allora, continuiamo a vedere i titoli d'apertura delle prime pagine dei giornali. Intanto ho preso la prima pagina del Sole 24 ore. Vediamo il titolo d'apertura statali, più in pensione che al lavoro, sorpasso previsto nel 2021. Ecco, lo vado ad evidenziare per poterlo leggere meglio. Previsto nel 2021, pesa quota 100, in due anni persi 190 mila impiegati. Età media sempre più alta, 542 mila dipendenti, oltre la soglia dei 62 anni. E poi il Sole 24 ore ci ricorda che ieri però è stato immesso sul mercato anche il BTP Futura. Chiesti il primo giorno oltre 2,37 miliardi. E poi ancora semplificazioni, quindi taglio centrale, ultima trattativa, decreto legge, confronto notturno sul decreto legge, corsie veloci per scuole, sanità, strade e ferrovie. E ancora più sotto, piano delle riforme contro il debito, risparmi per 30 miliardi l'anno. Così il Sole 24 ore. Vediamo il Fatto Quotidiano e la notizia della riunione del Consiglio dei Ministri la mette in alto. Vedete, decreto semplificazioni, governo riunito fino a tardanotte. Oggi sapremo se Conte e compagni sono riusciti a sburocratizzare senza sacrificare legalità e ambiente. La notizia della morte di Morricone. C'era una volta Morricone, la nostra colonna sonora. E poi invece di taglio centrale, in questo fotomontaggio, questa fotonotizia, colpo grosso della lobby dei Lidi, ammucchiata maggioranza e opposizione finalmente unite, briciole allo Stato, concessioni balneari, patto Franceschini-Gasparri, le proroghe fino al 2033 e sana, gli arretrati da pagare, a fare da 15 miliardi per 105 milioni di canoni. Così scrive il Fatto Quotidiano. Vediamo il riformista, la fotonotizia, Ennio Morricone, il buono, il brutto, il genio, addio a Morricone. E poi Palamara, lo sapete queste polemiche che ci sono state in queste settimane. Palamara, 100 testimoni o processo farsa? Così si chiede il riformista. Il foglio diretto da Cerasa, vediamo che cosa scrive, elogio della condizionalità. Questo è il suo approfondimento, il suo editoriale, lo vedete qui nel simbolo della ciliegia. E allora, elogio della condizionalità, che cosa dice? Oltre il MES c'è di più i paesi europei che in questi anni hanno fatto proprio il vincolo esterno, se la sono cavata bene, perché l'Italia può uscire dalla crisi, abbracciando le splendide raccomandazioni dell'Europa. Eccola la vera semplificazione. Così scrive il direttore del foglio. Vediamo il giornale. Berlusconi, i video verità e testimoni della persecuzione. Il giudice esposito era ossessionato dal suo arresto, la sua condotta inaccettabile, anche per il leader della sinistra inglese. Poi, buona fede, il ministro guardasigilli ci riprova altri criminali scarcerati. La fotonotizia, Morricone, c'era una volta il maestro Morricone. Vediamo Libero. La pacchia è ricominciata per le ONG, nuova ondata di immigrati. Salvini, salvaci tu, la Ocean Biking scarica. Oltre 100 clandestini che trascorreranno la quarantena spese della protezione civile. Il leader PD, finalmente, sindaci siciliani furiosi, ci vorrebbe Matteo. Così è Libero. Vediamo il manifesto. Dedica tutta la pagina, naturalmente, la fotonotizia alla scomparsa di Ennio Morricone. Cinema in Paradiso. Addio Ennio Morricone, il grande compositore amato a Hollywood. Premio Oscar, che con le sue note ha attraversato il cinema moderno insieme a Sergio Leone, ha reinventato il ruolo delle colonne sonore. Una vita dedicata alla musica, quintessenza della sua Roma e della sua genialità. Ancora, vediamo il tempo. Decreto complicazioni e poi la verità. Al governo sbagliano i conti, spunta un buco da 100 milioni. La compagnia dei competenti. Ancora, ultimi due giornali a venire. Sembra semplice, ancora in bilico. Il decreto sulle semplificazioni verso un ok salventese. Contagi di ritorno, giro di vite di Zaia. Zaia, vi ricordo, è il governatore del Veneto. Speranza, il ministro della Salute. Vaccino, anche italiano. Ennio Morricone, addio, maestro dei sentimenti in musica. Chiudiamo la lettura delle prime pagine con il mattino quotidiano di Napoli. Morricone, c'era una volta il genio. E poi c'è un'intervista, vi segnalo, al ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. Fonti Covid al sud, più del 34%. La notizia sui provvedimenti del governo, il decreto semplificazione. Ultimi scontri su appalti e grandi opere. Sfida nella notte sul decreto. Conte tenta di evitare l'approvazione, salvo intese. Allora, queste sono le prime pagine. Andiamo a vedere rapidamente gli approfondimenti. E allora si parla del provvedimento a cui appunto ha dato il via libera, il testo del decreto Palazzo Chigi nella notte. Una lunga riunione fiume, lo vedete qui dal Corriere della Sera, già dal titolo Maratona notturna per un accordo via libera al piano delle riforme. Il testo arriva in Consiglio dei Ministri soltanto a tardasera. Questo spiega perché in realtà si era diffusa la notizia che fosse già in corso il Consiglio e poi fosse eslittato. In realtà, eccolo, lo capiamo proprio dal Corriere della Sera, perché il testo è arrivato solo in tarda serata e quindi poi c'è stata la convocazione. Dalle infrastrutture all'economia green, i punti che dividono. Allora, vediamo sotto quali sono i provvedimenti. Vediamo almeno i titoli per focalizzare un po' i contenuti di questo provvedimento. Le grandi opere, niente bandi, così gli appalti saranno più veloci. Poi in realtà ci sono delle aliquote da rispettare in base al fatto che non ci siano i bandi. E poi le responsabilità, abuso d'ufficio, il danno erariale c'è solo con il dolo. Digitalizzazione, certificati, servizi e pagamenti attraverso un'applicazione. E poi per quanto riguarda i permessi, autorizzazioni ambientali e procedure speciali. Questo dovrebbe servire nelle intenzioni del governo naturalmente a sburocratizzare il nostro sistema paese. E allora, però ve l'ho detto in anticipo, il Premier Conte dopo la riunione del Consiglio dei Ministri, quindi questa mattina presumibilmente o comunque in tarda mattinata, volerà in Portogallo e poi domani sarà in Spagna. Incontrerà rispettivamente il Premier Costa e poi il Premier Sanchez per discutere d'Europa. Allora, lo vedete già da questo titolo, Missione Europa, è proprio questo il senso di queste due missioni che farà il Premier nelle prossime 48 ore. Il Premier a Lisbona cerca le sponde per il Recovery Fund. Sul frontenterno lo scoglio più alto resta il Messi, il non ribadito da Crimi, il pressing di Bonino. E allora, vediamo Monica Guerzoni, ci aiuta un po' a capire meglio che cosa accadrà nelle prossime ore. Lo andiamo a leggere insieme. Appuntamento con la storia, senza paura di suonare un po' enfatici. A Palazzo Chigi sintetizzano così la meta finale del tour di Giuseppe Conte nelle capitali europee, dove la storia è il tesoretto delle Recovery Fund, sul quale il Presidente del Consiglio ha puntato tutte le sue carte. Oggi la prima tappa è Lisbona per l'incontro bilaterale con il Premier portoghese Costa e domani Conte sarà a Madrid per un faccia a faccia con Pedro Sanchez. Un doppio appuntamento cruciale per mettere a punto una strategia comune in vista del decisivo Consiglio europeo del 17-18 luglio su Next Generation UE. Conte ci ha scommesso per primo e lavora perché la proposta ambiziosa della Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, 750 miliardi tra sussidi e prestiti, non venga erosa dai falchi di Bruxelles. E poi qui vedete in questo schema i conti proprio del MES. Ci sono i vari paesi con il tasso e i titoli di Stato. E poi anche in quest'altro schema a chi conviene, e in Europa lo vedete tracciato con il verde, Portogallo, Spagna, Italia e Grecia. Invece a chi non conviene abbiamo i paesi del nord Europa, soprattutto Olanda, Germania, Belgio, Francia e Austria. Se poi del resto il titolo lo chiarisce ancora di più, tassi di interesse allo 0,13%, conviene Italia e Grecia. Non a Berlino, Parigi e Vienna ogni 10 miliardi di Il Tesoro risparmia 109 milioni. Così sintetizza molto bene il Corriere della Sera. Però per capire quello che sta accadendo nella politica andiamo a farci aiutare da Massimo Franco nella sua nota. Tecnici al lavoro per trovare un compromesso sulle gare nel piano per Bruxelles l'elenco di 110 opere in cantiere. Il timore diffuso, scrive Massimo Franco, è che dietro la lunga sfilza dei provvedimenti annunciati e si annidino altri mesi di immobilismo e che il cosiddetto decreto per le semplificazioni sia condannato a esaltare un governo timoroso di scegliere per non frantumare l'equilibrio precario che lo sorregge. Così nel suo incipit Massimo Franco. E poi sotto c'è una retroscena, vi leggo anche in questo caso soltanto il titolo per brevità di tempi. Stretto fra Demme e 5 Stelle, Conte cerca l'intesa per dare un segno all'Unione Europea. E allora andiamo nel dettaglio, spostiamoci sulla stampa, pagina 7, c'è un'intervista al viceministro dell'economia Laura Castelli entra un po' più nel dettaglio dei provvedimenti, il titolo, il cuneo fiscale è già ridotto, adesso l'IRPEF ha tre aliquote. E allora Ilario Lombardo che l'ha intervistata gli chiede cosa farete, dice come farete. Carlo Cottarelli sulla stampa proprio ieri ha fatto un'analisi, dice e scrive che nel PNR le idee sono troppe, confuse anche sulle tasse. E allora risponde la Castelli, PNR fornisce le linee generali di indirizzo di un governo, è chiaro che poi vanno attualizzate misure concrete. Prendo a prestito proprio qualche proposta di Cottarelli che ha calcolato in totale 117 tasse che si pagano in Italia, un'enormità. Ci sono 19 microimposte che possono essere abolite. Questo sostanzialmente è quello che dice nella parte iniziale dell'intervista il Vice Ministro Castelli. Andiamo a vedere però ancora altre interviste, ci spostiamo su Repubblica, pagina 13. C'è un'intervista al Vice Presidente del Movimento 5 Stelle del Parlamento Europeo, Castaldo, dice Il no al MES resta, non bastano le garanzie, l'Unione Europea può cambiare idea. E poi nel sommario, qui forse qualcuno pensa di usare la spesa sanitaria in chiave elettorale. Il PD vuole intese per le regionali, in Puglia e Campania non ci è sembrato. Quindi vedete ci sono ancora delle schermaglie piuttosto forti. Andiamo sulla stampa, ritorniamo, andiamo a pagina 9. C'è un'intervista a Tito Boeri, l'ex Presidente dell'Inps, dice Ora di attrarre i giovani se serve pagandoli anche di più. Questo è il titolo della sua intervista. E poi ancora sul Corriere della Sera c'è un'intervista, parliamo di regionali, di elezioni regionali, quindi di accordi tra appunto i partiti. C'è un'intervista a Marcucci, per riuscire a mediare non si cambiano i nomi, il tempo sta scadendo. Ed è scaduto anche il tempo a mia disposizione. 7.22, subito la parola a Paolo Sottocorona con il buongiorno. A te Paolo. Grazie Fabio, buongiorno. Questa è la situazione di questa mattina, spesso un po' in gergo si parla di coda di una perturbazione. La perturbazione è questa più chiara, vi ricordo che siamo in configurazione all'infrarosso, quindi il satellite vede le temperature, queste sono quelle più fredde. E poi vedete che la parte finale della, appunto, la coda di questa perturbazione, più scura, significa meno intensa, arriva a toccare i versanti orientali dell'Italia. Ci sono delle piogge in questa zona e questa perturbazione si sposterà scorrendo lungo l'Adriatico, quindi nella prima parte della giornata di oggi, quindi calcolata fino alle 14, queste piogge, qualcun'altra, vedete che può interessare l'alto Adriatico, e poi vedete come si spostano verso le zone del centro, ma più sul versante Adriatico che su quello tirrenico, sulle altre zone di nuvole e di piogge, evidentemente ce ne sono poche. Nel pomeriggio si attivano i soliti nuvoloni che danno qualche temporale? No, no, perché questa perturbazione non porta più traccia dalle 14 fino alle 2 di notte e anche gli annuvolamenti del pomeriggio sulle zone alpine, sull'Appennino, sono veramente minimi, quindi il tempo diventa più stabile, confermato dalla carta prevista per domani. Nelle 24 ore ci potrebbe essere un millimetro di pioggia isolatamente in qualche zona dell'Appennino e delle Alpi, è una giornata di tempo stabile, sicuramente, e poi la giornata di giovedì che vede riprendere un po' con l'instabilità sull'Appennino centro-meridionale o centrale, in realtà qui siamo in Abruzzo, e poi in parte sulle zone alpine, sull'Appennino più settentrionale, su quello ligure, cose molto isolate del pomeriggio, quindi tempo che sostanzialmente continua a essere stabile. delle minime di questa mattina, c'è da dire solo che erano previste in un calo abbastanza sensibili, al nord sono scese un poco, ma tutto sommato nemmeno tanto, invece quello che non è sceso ma è salito è il motondoso sui mari più occidentali, perché vedete che il mare di Sardegna, per un maestrale che si presenta piuttosto attivo, arriva a essere agitato, gli altri da poco mossi a mossi, ma questo motondoso probabilmente si estenderà verso est anche lui. Se volete ci vediamo subito prima delle 7.55, adesso pubblicità, e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angelicchio, da più tardi.